Siamo il responsabile della squadra di biliardino del GSO Breno, è il terzo anno che partecipiamo alla manifestazione del CSI di questo sport, è partito come un progetto sperimentale e in questi anni ha già attratto un certo numero di squadre, noi giochiamo per divertirci, abbiamo otto atleti, un modo per stare insieme e per trovare delle persone che come noi hanno la passione di questo sport. Anche quest'anno il torneo si svolge come un giro nell'italiana, siamo 14 squadre iscritte e per adesso abbiamo fatto una sola partita. Le regole sono quelle del calcetto biliardino a volo, non si possono effettuare dei ganci, dei passaggi tra gli omini della stessa stecca e per il resto diciamo che noi giochiamo in maniera molto amatoriale, ci piace divertirci e lo spirito nostro è quello del gioco e non quello dell'agonismo. L'agonismo lo lasciamo alle squadre che sono più forti, l'importante è poter divertirsi e giocare tutti insieme. Allora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti e a tutti gli ascoltatori da parte del gruppo sportivo di Breno, alla prossima.